L'ultima parola è interessa in quello dell'essirico di accettare gli uomini, cioè quello di portare, di rispondere per quanto possibile la conoscenza nei settori di interesse del capito. Noi non facciamo lobby, non facciamo no profit e quindi lo scopo principale è proprio quello, di mettere in condizioni di conoscenza. Maggiori sono le conoscenze meglio per chi poi deve prendere una decisione e farlo avendo un ampio ventaglio di conoscenze e di scelte. Questo è il nostro scopo, cerchiamo di fare il nostro meglio. E quindi ringrazio nuovamente tutto l'appuntamento per il 10 luglio per il convenio della soviglianza marittima. Nel frattempo, in tempo reale, si è aggiunto al parterre degli speaker anche Flaci, conferma della sua partecipazione. Quindi speriamo di aggiungere qualche altra sedina per offrirvi sempre il medio di quello che nel settore. Grazie a tutti. Ringrazio nuovamente tutti, ringrazio nuovamente per l'ottima fila, comandante Chiglierio per l'ospitalità e quindi l'invito a si focillarci. Credo a chi ci guida il facilamento giurano l'ospitalità, ma comunque dove viene passeggiata la nostra? Cosa lì, c'è un posto che si è preparato. In un momento l'ospitalità si accompagnerà, dicendo che si fa di vista la passeggiata dentro la vostra macchina, il difficile vi darà. Anche l'ospitalità maggiore... Anche l'ospitalità. Anche l'ospitalità.